Cinque gol di vantaggio, tanti tantissimi per una squadra che sta attraversando un periodo brillante di forma e che a livello di autostima è cresciuta molto. Ovvio il riferimento all'Omnia Bitonto impegnata in questi giorni nella fase nazionale dei play-off del campionato di eccellenza. L'obiettivo per nulla nascosto di dirigenti, componenti dello staff tecnico e calciatori è quello di puntare al massimo traguardo la promozione in serie D. Ora un po' più vicina per la formazione del presidente Francesco Rossiello, dopo il successo per 5-0 ottenuto davanti al pubblico amico del Città degli Ulivi nella semifinale d'andata contro i Lucani del Soccer Lago Negro. Il punto di partenza insomma è eccellente, l'opera naturalmente. Va però completata domani pomeriggio a partire dalle ore 16.30 nella sfida di ritorno in programma ad Avigliano. Pasquale De Candia è stato molto chiaro con i suoi durante questa settimana, non vuole cali di concentrazione. Sentiamo che abbiamo fatto un buon passo in avanti, adesso c'è un ritorno da giocare con l'umiltà giusta che ci appartiene perché sinceramente la mia squadra si è sempre dimostrata umile. Quindi andiamo là, partiamo dallo 0-0, consapevoli che dobbiamo fare la nostra partita e poi a fine di 90 minuti cercare di portare a casa la qualificazione. Andiamo ad incrociarci comunque con delle variabili non certe, a campo piccolo, una squadra che non sappiamo in casa come si comporta, quindi bisogna rimanere concentrati. È inutile fare dei pronostici azzardati però certo è un buon risultato quello che ci accompagna al partito di ritorno. La doppia finale nazionale in programma il 3 e il 10 giugno in ogni caso è molto vicina per l'Omnia Bitonto, reduce da 14 risultati utili consecutivi e capace di conservare l'imbattibilità della propria porta nelle ultime 5 esibizioni ufficiali tra stagione regolare, play-off regionali e semifinale play-off nazionale d'andata. Nell'altra sfida invece si affronteranno in campagna Vis Afragolese e i siciliani del città Sant'Agata. I napoletani hanno vinto in trasferta 1-0 la gara d'andata. Grazie.